eccoci qua nome ciao michael che facciamo qua vediamo come vediamo vediamo non vediamo salchiamo voliamo anche il tunnel questo è un bel regalo di eccoci qua per la sua laurea in ingegneria ingegneria di gestionario grande miticissimi allora andiamo a divertirsi va bene vada là che ora c'è anche quasi una luce dal tramonto ci aspettano andiamo andiamolo no 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 non no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.